A miso pubblico rilancia la vigilia della consegna delle liste per le politiche. L'associazione che tiene il polso degli amministratori locali minacciati e dei comuni sciolti per infiltrazioni della criminalità lancia la campagna Unisciti a noi per mettere in rete buone pratiche e soprattutto prevenire episodi di corruzione o peggio la formazione di un terreno fertile per le mafie. Al momento in Puglia sono 38 i comuni aderenti, inclusi città metropolitana e regione. D'altro canto l'ultimo report dell'organizzazione posiziona la Puglia al quinto posto della classifica sugli amministratori sotto tiro e in quelle parziali dedicate ai territori e la provincia di Foggia a detenere il primato con 16 episodi riconducibili al 2021, poi Bari con 9 attentati e ancora Lecce con 6, Taranto con 5 mentre il resto dei casi è diviso tra la batte e il brindisino rispettivamente con 3 e 2 episodi di questo tipo allo stesso modo case history costituisce lo scioglimento del capoluogo da uno secondo per grandezza dopo Reggio Calabria ad essere sciolto ed ancora in attesa che la safety car del commissariamento esca di scena.